Casola viene finalmente ai franci sociali in attivo, la prima volta in circa 15 anni grazie a questa amministrazione hanno risolto i problemi degli franci, intensificare la rapporto e differenziale porta a porta per tutta la città, si traduce nuovi corsi di lavoro, grazie al naturale pre-pensionamento dai lavoratori, pre-pensionamento e per spazio a nuovi corsi di lavoro. L'opportunità di isole ecologiche sul territorio sono poi disoccupazione, una nota approcciata di collocazione di termificazione, cioè la gestione e il funzionamento di queste due isole sono già in funzione, possono collocare due corsi di lavoro e disoccupati di Casola, il momento di rilancio per i disoccupati di Casola penso che è arrivato, grazie. Grazie all'unico Alito Cioffi, passo al lavoro al sindaco.